In questo video voglio parlare di Kena perché ultimamente visto che già ha fatto questa cosa diciamo gradita ai propri clienti, cioè quello di aumentare la velocità in upload e vi ricordo che ha questi 30 megabit al secondo sia in download e adesso anche in upload, ha messo queste due opzioni che potrebbero essere interessanti a tutti coloro che hanno una buona copertura team e le andiamo a vedere immediatamente. Intanto torniamo a guardare un po' le tariffe di Kena, quali sono? Hanno cambiato un po' i costi di attivazione, cioè il costo di attivazione perché la sim e la consegna sono gratuiti. Allora andiamo a vedere quell'importabilità facendo un po' un di epilogo a 5,99 con 70 giga minuti sms illimitati e c'è il costo di attivazione 3,99 e 5,99 l'offerta mensile. Questo è come ho detto in portabilità da Iliad, Postel, Icamobile e poi altri virtuali che ve li andate magari a sfogliare un po'. Poi c'è qui in basso a sinistra per i nuovi numeri sempre a 5,99 con 50 giga minuti sms illimitati. Il costo qui di attivazione però è di 8 euro e 99. Poi abbiamo per clienti o mobile fast web tiscali e copvoce a 7 euro e 99 con 50 giga sempre minuti sms illimitati. Il costo di attivazione sono 3,99 e poi per tutti gli altri sono 13,99 con 70 giga e sempre minuti sms illimitati. Qui il costo di attivazione è 3,99. Vi ricordo che ha anche questa 100 giga con un'attivazione di 9 euro e 99. Però cosa fa Kena in questo periodo? Come vedete fino all'8 di gennaio 2021 e mette in pratica questo cashback. Un po' adesso è di moda questo già dal cashback di Stato che poi magari in un prossimo video vi aggiornerò che ci sono ci sono qualche novità. Vi farò vedere un po' altre cose che mi sono successe e qui cosa fa? Mette anche lui il cashback. Cosa vuol dire? Che su tutte le potete leggere, su tutte le offerte che ci sono, quindi da quella da 5,99 e 7,99 e 13,99 rimborseranno una mensilità dopo naturalmente il primo rinnovo. Quindi voi acquisterete una sim dell'offerta che volete e dopo il primo rinnovo che farete vi rimborseranno la tariffa. Quindi se voi fate questa da 5,99 riceverete un cashback pari a 5,99 e così per quella da 7,99 o da 13,99. Ripeto è che questa cosa qui potrebbe potrebbe essere interessante visto che hanno aumentato la velocità in upload e per tutti coloro che hanno una buona connessione team. In più che oltre questo cashback ai propri clienti, se andate a vedere all'interno dell'app troverete una sezione dove c'è un'opzione da attivare e cioè acquistare una Tantum, quindi lo si potrà fare solo per una volta, 30 gigabyte. Questo diciamo che è nell'arco nel mese di dicembre perché la scadenza è fino all'8 gennaio, quindi si può attivare solo fino all'8 gennaio questa opzione qui. 30 gigabyte a 99 centesimi. Si dovrebbe chiamare 30 giga natale, è un'offerta che si disattiva automaticamente, quindi non è previsto un rinnovo automatico perché come ho già detto lo si può fare solo una volta la richiesta di questi 30 giga al costo di 1 euro, quindi questi 99 centesimi. Altra cosa importante da sapere è che questi 30 giga che voi attiverete verranno utilizzati per primo rispetto alla vostra offerta, quindi voi attivate questi 30 giga al costo di 99 centesimi e verranno scalati dalla vostra sim prima questi 30 giga e poi quelli che avrete nella vostra sim, quindi in base al vostro piano tarifario, alla vostra offerta. Bene ragazzuoli, io penso di aver detto tutto riguardo a questo cashback di Kena e questa promo che si chiama 30 giga natale, dovrebbe essere così, questa la trovate nell'app Kena. Lasciate sempre i vostri commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video, come sempre il solito saluto i nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Tito!